La polizia stradale di Gorizia ha scoperto nel corto sdorio di un controllo che in un furgolo ungherese c'erano le carcasse di 60 faggiani morti, parte di un carico di 600 esemplari destinato a un'azienda agricola del bolognese per il ripopolamento della zona. La polizia stradale, che ha bloccato l'automezzo al casello A34 di Villesse, ha accertato che questo non aveva le caratteristiche per il trasporto di animali ed era privo delle autorizzazioni relative, ha sanzionato con una contravvenzione di 2.000 euro l'autista. Gli agenti hanno anche inviato alcuni esemplari di fagioli all'istituto zooprofilattico della Venezia perché vengono compiuti gli esami otoptici e di laboratori edonei ad appurare le cause della morte per evitare, in carenza di informazioni circa la causa del discesso degli animali, il rifonso di eventuali malattie infettive ed epimideologiche.